Bene, adesso dobbiamo andare alle lezioni di erbologia. Coraggio, l'aula di erbologia si trova nelle serre all'esterno. Andiamo! Ok, quindi adesso dovete seguire loro e andare verso l'esterno. De qua. Qua se avete poca vita, se avete mancato un po' di vita, le prendete. Qui c'è un passaggio segreto, non so, forse non si vede molto, che è questo qui. Io lo prenderei, forse in voi. Perché visto che avete preso le figurine da Fred e George, le altre, come vi hanno detto, le troverete in giro per Hogwarts. Quindi dovete girare e trovare. E visto quei passaggi segreti, vi dicevo, ce ne sono tantissimi. Fatemi. Ecco, dovete arrivare lì. Allora, per arrivare lì però, non è così facile come sembra. Allora, innanzitutto, vedete allora, questa è la piattaforma. Innanzitutto prendete. Allora, voi dovreste andare di qui, no? Però vedrete, adesso vi faccio vedere, che qua non si muoverà. Ma si muoverà solo in due direzioni. Da una parte e dall'altra. Dovete essere veloci, perché questa scala non rimarrà così per sempre. Avranno, per un po' di tempo ci rimarrà. E ora andate. Perché dovete affrontare due battaglie. Allora, vot'è un po'. Ma si muoverà come una rosa di noi. Si muoverà 4-1. Lava la vertiglia non š01-2. E ora andate. Ar걸 a Natalίνarciare questo sglo. E ora andate. Yary, adesso av Dodd like prima tessuti. Stai av targets. Urge3-1. Un po' di tempo. Il principio per batteri è lo stesso che avete usato per batteri nel primo, è uguale, non cambia nulla. Il livello! Il livello! Il livello! Il livello! Il livello! Beh, il grosso l'avete fatto. Vedete adesso se è aperta la porta che sarebbe giù. Allora, state attenti però perché qua ci sarà una battaglia difficile e io purtroppo mi do una poca vita. Tirate la leva. In modo che si riesca, esatto, vedete, si possa raggiungere la piattaforma e raggiungere. Ma purtroppo non sarà finito qua. Ci sarà qualcuno che deciderà di crearvi un po' di problemi. Mi ripendo! Andatemi lontano. Ma ricordatevi che... Mi ripendo! Bene, una volta fatto... Bene, una volta fatto... Mi ripendo! Basterà andare in quella libreria che può salire sulla cosa, non questa, eh? Sto andando qua perché c'era una ciocorana, quindi visto che le ciocorane servono sempre... Andate qui. Ok. E così potrete raggiungere la piattaforma... Una volta che sarà arrivata l'altezza giusta. E potrete prendere la tanto desiderata, streghe. Gaspard Schinger. Figurito. A questo punto potete uscire e tornare da dove siete venuti per raggiungere la lezione di erbologia. Bene. Quindi proseguite, seguite la strada. Seguite questi Ron e quell'altro che non so chi scia, ma comunque seguiteli. Ok. A questo punto... Per arrivare alle serre dobbiamo prima uscire. Se usciamo ricordiamoci di stare alla larga dal platano. Non ricordarmi! Bene. Adesso andate di qua. Ora esploreremo la parte esterna del castello, perché visto che siamo in un momento dell'ora di erbologia, esploreremo l'esterno, il parco del castello. Non ricordaremo l'esterno, il parco del castello. Erbologie da questa parte Va bene, intanto vi faccio esplorare un po' cosa c'è qui Allora, qui c'è Quidditch Ciao Potter, sto ancora tentando di entrare a far parte della squadra di Quidditch Forse quest'anno avrò più fortuna Potresti parlare di me a Oliver Buston Dopotutto tu sei cercatore di Grifondo Infatti qui è il campo di allenamento di Quidditch Ma adesso non ci potete entrare perché adesso dovete andare a Erbologie Ingresso per la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e per il campo di allenamento di Quidditch Vabbè, qui ce ne sono Qui se vi interessa saperlo c'è una porta che adesso non vi servirà Adesso Ma vi servirà più avanti Vabbè, a questo punto Andiamo dove dovevamo andare a Erbologia Cioè di qua Coraggio C'è la lezione Allora, però per andare a Erbologia ci sono vari posticini interessanti Vari passaggi segreti in giro qua intorno alle mura del castello Però non ve ne accorgerete perché sono contraddistinti Si notano abbastanza bene Ogni modo, vabbè, voi proseguite Vabbè, voi proseguite Vabbè, voi proseguite